Aspettitevi, questo è un momento di divertimento, poi una squadra dovrà vincere. L'importante, stamattina ho apprezzato molto quello che ha detto Rosolino in aula, è mettercela tutta, mettere in campo tutte le proprie energie. Nel momento in cui le energie le avete spese tutti, significa che la prossima volta ricomincerete con un numero maggiore di energie, al fine di poter raggiungere il risultato migliore. Quindi auguri, so che siete bravi, io mi allontanerò, poi ritornerò e vi raggiungerò il termine dell'anno. Per cui mi piacerebbe assistere a una parte del vostro lavoro. Farò di tutto per adesso.